Lei deve sapere che sono membro dell'EMA e così ho accesso a tutti i documenti di Pfizer e di Moderna. E se io mi lascio vaccinare vuol dire che il beneficio è molto superiore al rischio. Grandissima soddisfazione dopo mesi e mesi di restrizioni, di sacrifici e sofferenze. Adesso abbiamo un'arma che ci permette di voltare pagina davvero, di aprire un nuovo capitolo. Sarà adesso la svolta e ovviamente ci saranno ancora mesi difficili davanti a noi, però adesso bisogna convincere la gente di andarsi a vaccinare e poi potremo anche avere il successo definitivo e vincere la pandemia. Io in questi mesi ho sognato innumerevole volte questo momento perché chiaramente per noi poter uscire da questa crisi è importantissimo perché così possiamo di nuovo dedicarci ai pazienti normali e lasciare alle nostre spalle questo momento di crisi veramente profonda. Devo dire che nessuno pensava all'epoca che già oggi nel 2020 ci prevenisse questo vaccino. Sono molto molto contento perché è l'inizio del cambiamento, della svolta verso il controllo del virus e il controllo della pandemia. E questo vuol dire ritorno alla vita normale. Io penso che tutti quelli che capiscono questo messaggio debbano essere molto molto contenti.